Amici non mi dilungherò troppo nell'intro, farm di grano automatica nella serie vanilla di Minecraft Ho farmato off camera un bel po' di materiali perciò è sempre bene farla Se siete nuovi vi invito ad iscrivervi e niente, iniziamo Amici come vi avevo detto nell'intro mi sono craftato un po' di materiale Ho giocato un po' a FK perchè non mi andava di fare un episodio in miniera E come sto tabdando mi sono preso i vari materiali per fare Uh certo c'è un bel po' di ferro, vabbè Mi sono preso i vari materiali per fare la farm di ferro automatica Per fare la farm di grano automatica che andremo appunto a fare in questo episodio Ma se non mi prendo la pala non facciamo un bel niente Quindi mi faccio una pala Allora la pala l'abbiamo fatta Io pensavo di far sorgere diciamo il villaggio qua di zona Eh madonna quanto scavalenta Quindi credo che farò la farm di grano tipo qua in parte alla casa Ovviamente è facilissima, ne facciamo almeno due automatiche così ci portiamo avanti Signor Maialiano non mi guardi così che stiamo cercando di fare una farm Quindi scaviamo un buco lungo 5 e largo 3 però profondo due blocchi Perchè appunto qua sulla profondità del doppio blocco mi sa che c'ho l'auto jump che tipo toglierò subito Perchè su questa profondità andremo a mettere gli sticky piston Grazie, grazie sticky piston Perfetto andiamo a mettere tutti e 5 ovviamente sulla parte lunga E davanti ai pistoni ci mettiamo i ripetitori E davanti ai ripetitori ci mettiamo la redstone Perfetto, qua l'ho messa? Assolutamente sì Ok quindi facile facile, una mega stupidata Dovrebbe uscire per così Pensavo di farla diversamente Vabbè fa niente la facciamo per così Poi esattamente al centro avevo intenzione di fare un doppio buchino Ci mettiamo la redstone perchè appunto dobbiamo attivare il tutto tramite una leva Quindi mi prendo pure gli slab che vado a mettere in questa posizione Allora faccio così, faccio così e diciamo che per estetica questo lo togliamo assolutamente Ok carino, fatto bene? Sì E la leva va messa dietro No, non in terra, la leva non va messa in terra Bensì va messa qua dietro E in teoria se tutti i calcoli sono esatti Schiacciando così, yeppa, dovrebbe salire e scendere Scendere e salire, ok Però in realtà ci ho pensato adesso Perchè potete ricoprirlo con quello che volete Però appunto dovete andare a ricoprire il bordo Quindi mi devo fare altri slab Sì, mi devo fare un botto Quindi per voi passerà un secondo Per me almeno 10 minuti Quindi ci vediamo tra un secondo Quindi gli slab li abbiamo messi Ovviamente se andate a cliccare il pulsantino Si chiuderà qui così sarà dove passerà l'acqua Qui dovrete rompere tutto E poi vi faccio vedere Intanto tiriamo su e mettiamo l'apposita acqua Allora per voi sarà passato un secondo Per me è passato un po' di tempo Perchè aggiornamenti Qui non mettete gli stone slab Bensì mettete gli stone block Perchè è più comodo E soprattutto con gli slab A quanto pare non funziona Perciò ho fatto un allungamento di 6 E qui ho fatto dei buchi Ora vi faccio vedere il perchè E proviamo con la levetta In teoria dovrebbe funzionare Vabbè poi io ho il frost wall Vabbè lasciamo perdere Sì funziona Come ho fatto a ghiacciare l'acqua lì Vabbè Ok Quindi tecla premiamo E come vedete Arriva fino a un massimo di 6 blocchi Poi ripremendola Dovrebbe tornare indietro Yes Quindi qui è tutta zona Se mi date la Oh grazie mille Qui è tutta zona dove andrete a mettere I vostri ben amati semini Con il grano O comunque quello che volete Consiglio il grano Tec Ma soprattutto ce li ho i semi Ne ho appena 7 Ah siamo belli poveri Interessante Ok quindi mettiamoli tutti Ne vado a prendere altri dopo E qui ci mettete o degli hopper E ovviamente delle ceste Così almeno avete già il loot Il drop bello preso Oppure semplicemente Niente Oppure volendo si può fare una cosa A livello estetico Del tipo si fa così Tec Saliamo di 2 Ma volendo anche di 3 E ok quindi esce una cosa Del genere Volendo si può aggiungersi Mettiamolo qui Per farlo più estetico E mancherebbe In teoria dell'acqua Facciamo così Inzuppiamo un attimino Con l'acqua Vedete che i semini Scendono scendono Ovviamente deve essere il grano Ma vabbè ci siamo capiti E voi qui Lo andate a prendere Farming supremo di semini Non avrà preso neanche uno Sono abbastanza sicuro Oh ne ho 14 invece Quanta erba c'è in sto posto Prima di renderlo edificabile Fatto bene Ciao ci metterò un secolo Quindi l'acqua l'ho tirata via Yes Qua non è ben Non è ben in acquato in realtà Quindi male male Però vabbè ci mettiamo Lo stesso di semini Tanto sto anche morendo di fame Mi servirebbe del cibo Ma vabbè me lo procurerò Tramite la farm E mi metto qua tutti i semini Il mio piano era di andare No ho sbagliato Tutto ho sbagliato Ok Il mio piano era quello Di andare a fare Un'altra farm Completamente uguale Dai mancano pochi semini Vabbè Una farm totalmente uguale In caso ve la faccio off camera Comunque in ogni caso Ho ghiacciato l'acqua Con il potere degli stivaletti Vabbè In ogni caso avete visto Che funziona Qua ci potete mettere Degli hopper E secondo me è anche più comodo Ora mi creo del cibo Perché sì Sto morendo di fame Mi devo fare degli altri stone cosi Perché sto anche finendo la cobblestone E niente Quindi ci vediamo Dopo che ho fatto la seconda farm Allora ho messo giù un po' di cose È passato un pochino di tempo E come vedete Ho sia farmato Gli altri cosini Grano Non mi viene in mente il nome Sia Niente Ho fatto l'altra farm Le ho fatte perfettamente uguali Con il coso qui in mezzo Perché sì Mi ispirava Perché sì Ci faremo anche la stradina Si sta facendo anche una certa Che bello è con le shaders Devo ancora cambiarle Ma sto registrando Il video di fila con l'altro Quindi In caso non ho ancora letto I vostri commenti Di cosa mi dite E cosa non mi dite Ok Quindi Si è fatta appunto Ah le torce Eh sì Le torce raga Sono fondamentali Mettiamole No sui No Sugli slab non ci vanno le torce No Mi ero dimenticato Eh qua mega fail E allora le metteremo qua Cacchio Chi si ricordava Degli slab Ok dai Le ho messe tutte al lato così Sono carina Sì sono carina Più che altro Se arriva un creeper E mi esplode tutto Mi metto a piangere Quindi non credo Che carina la luna così Allora non credo Ci sia altro da aggiungere Non voglio tirar l'acqua Perché altrimenti Poi si disintegrano Tutti i semini Farm fatte Dovremmo farne Totalmente altre Però per il momento Non ho più di tanti materiali Perché appunto Abbiamo letteralmente Appena iniziato Quindi Chiudi tutto Entra Sì scappa Fai robe incredibili Andiamocene a nanna E io direi che per questo episodio Posso essere tutto Ma do quanto carino E quanta erba Già raga le devo togliere un botto Ma un botto Molto carino Sì dai ci sta Ci sta No mi triggera che non manca No 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 Sto pezzo d'erba che manca raga Mi triggera Aspetta un attimo Fermi tutti Ok No mi triggera un botto Ok Carino Bello bello Quindi con questo screen Incredibile Salvo Ed esco Spero che questo video vi sia piaciuto Che comunque vi sia stato utile E vi ringrazio per la visione Come sempre Vi do appuntamento domani Alla solita ora Ovvero 7 e un quarto Con un nuovo video Ciao